Mi piacerebbe autoprodurre ma non so come fare. Dove reperire i materiali? Dove trovare le ricette? Come fare? Dove avere tutto a disposizione? Dove mettere le cose? Quanto mi piacerebbe avere una scatola che contenga tutto questo. E invece c'è, eccolo qui, per la prima volta esce l'eco kit per le pulizie domestiche fatto da me, Lucia Cuffaro e soprattutto dal gruppo editoriale Macro. Oggi lo stiamo presentando in anteprima nazionale ad Ecomondo, la fiera green più grande in Italia che si tiene a Ribini. Che cosa contiene questa divertente scatola? L'apriamo insieme. Eccola qui. Allora, abbiamo un meraviglioso fotolibretto dove le ricette sono trasformate in fotografie che descrivono passo dopo passo come realizzare i nostri detersivi fatti in casa. Ma soprattutto troviamo i cinque ingredienti che ci permetteranno di autoprodurre ben 15 prodotti per essere autosufficienti nella propria casa, autoprodurre tutto ciò che ci serve in modo salobre, in modo sicuro ma anche economico. Allora, troviamo ecco qui il carbonato di sodio, ovvero la soda da bucato, abbiamo il percarbonato di sodio, abbiamo il classico bicarbonato di sodio e abbiamo anche dell'acido citrico, ma soprattutto un meraviglioso sapone di marcilia naturale fatto dal bianconiglio, fatto dalle loro mani, per avere un prodotto naturale e salutare. Tutto questo lo trovate nell'Eco Kit per le pulizie ecologiche che si potrà reperire nei librivie, nei punti bio, online, quindi insomma se lo volete sarà facilissimo averlo in tutte le case e soprattutto anche come regalo di Natale, un regalo ecologico e divertente ma soprattutto un nuovo, un'idea semplice che però nessuno ancora mai ha avuto in Italia e siamo noi per fortuna.